Simbiosi industriale come strategia di sviluppo sostenibile per l'economia circolare, la transizione ecologica, la digitalizzazione, l'occupazione e la salute dell'uomo. Sono i temi al centro dell'evento organizzato nell'aula magna del Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie Ambiente dell'Università degli Studi di Bari. L'iniziativa dal titolo Bioeconomy Day si colloca nell'ambito della sesta edizione della giornata nazionale della bioeconomia circolare, promossa dal Cluster Spring con asso Biotec Federchimica e con la collaborazione di CAM Agroenergetico Mediterraneo e Acquedotto Pugliese. Noi ci stiamo provando in tutte le maniere di trasformare quello che è un grosso problema, che sono gli impianti di depurazione, in un valore per la nostra società e per il territorio, perché stiamo trasformandoli andando a prendere le acque di riuso e mettendole a riuso in agricoltura. Obiettivo principale è divulgare un modello di sviluppo che metta in simbiosi la bioeconomia e l'economia circolare. L'obiettivo che noi ci poniamo è quello di creare la filiera Puglia della bioeconomia circolare, perché vuol dire integrare i vari sistemi industriali, dove solo l'integrazione all'interno delle aziende private, con un'integrazione dei propri cicli produttivi e industriali, possono portare a raggiungere gli obiettivi. C'è una grande attenzione pugliese. La cosa bella che c'è, per esempio vi porto la testimonianza della rete delle università per la sostenibilità, è che la Puglia ha fatto cartello, si è unita insieme, le cinque università sono insieme, proprio per riuscire ad aiutare anche gli organi governativi ad andare nella direzione giusta per lo sviluppo sostenibile. La Regione Puglia è da sempre in prima linea per la promozione e diffusione di una cultura orientata alla sostenibilità. Abbiamo creato un modello, un modello che è molto virtuoso perché coniuga la ricerca, la ricerca applicata, la produzione con le imprese.